... Andiamo per annunciare al prossimo giro, questa volta la prima, 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 la prima. E' 56, due punti, 231, un punto. E' 56, due punti, 242, un punto. Passaggio, due punti, da prima, la 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 prima. E' 55, due punti, 242, un punto. La treca numero 25 viene a Bonito. 172 punti e 43 punti. La treca numero 25 viene a Bonito. La treca numero 25 viene a Bonito. ma sono fredda e il prossimo posto sardino è venuto a me e a due grazie 170 a noi più di 169 a un punto ma calma ma calma ma calma ma calma ma calma ma calma e il mio gioco il mio gioco il mio gioco è venuto a me e la e la montagna e il mio gioco è venuto a me mi ha detto che la vuoi salutare grazie 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 grazie